Salve a tutti ragazzi, sono Gabri Costa. Volevo dirvi una cosa, in questo videogioco Sly Cooper Ladri nel Tempo, visto che stiamo parlando del quarto episodio e siamo qui nell'Inghilterra medievale, dopo aver raccolto le 30 bottiglie, ora noi dobbiamo subito aprire questa cassaforte e capire che cosa ci sarà lì dentro e che oggetto troveremo. Ma vi avverto, ve l'ho già detto tante volte, mentre tentiamo di aprire la cassaforte abbiamo solo 30 secondi, ricordatevi di muovere il joystick senza fili, muovete la levetta a sinistra e la levetta a destra, proviamo, non perdiamoci in chiacchiere. Abbiamo aperto la cassaforte, guardate cosa abbiamo trovato, il cappello da rana di Serralegg. Bene, se il video vi è piaciuto, ora mettete un mi piace e iscrivetevi al canale, immediatamente, subito, parola di Gabriosta, se il video vi è piaciuto potete anche condividerlo. Fateci sapere cosa ne pensate nel video nei commenti qui sotto. Grazie.